Avanti Chiavari ha presentato il point per di capo a sindaco, iniziata la raccolta film contro il depuratore. Accordo quadro tra regione Liguria e rete ferroviaria italiana per il miglioramento dei servizi. L'istituto comprensivo di Ciccagna ha ricordato il giorno della memoria. Mercatino dei sapori a Chiavari, appuntamento con la gastronomia delle regioni. Buonasera ai telespettatori di TG Tiguglio, si susseguono l'iniziativa in vista delle prossime consultazioni amministrative di Chiavari. Nel capoluogo del Tiguglio questa mattina è stato presentato da parte di Avanti Chiavari il nuovo point ed è iniziato la raccolta delle firme contro il depuratore previsto nell'area del Lido. Ecco il servizio di presentazione di Marisa Spina. Questa mattina il candidato sindaco Marco Di Capua inaugura il suo point qui in Corso Garibaldi. Segno evidente della partenza di questa campagna elettorale chiavarese che come si preannuncia? Si preannuncia una campagna combattuta con tanti candidati come del resto è sempre stato anche nelle campagne precedenti. Noi abbiamo già completato due liste civiche, tutte persone non iscritte a nessun partito, stiamo allestendo una terza lista civica. Quindi questa mattina si presenta alla città in maniera diciamo così ufficiale però è un'ulteriore occasione quella che voi offrite questa mattina. Sì apriamo il point elettorale qua in centro a Chiavari in Corso Garibaldi 44 che verrà tenuto aperto il venerdì mattina e tutti i pomeriggi perché vogliamo oltre ad ascoltare i bisogni della gente di Chiavari vogliamo anche far partire una raccolta firme contro il progetto del depuratore di Vallata al Lido. Qual è la condizione principale che vi porta a raccogliere le firme contro il depuratore collocato al Lido? Se ripercorriamo un po' la strada di questo depuratore ci ricordiamo che quando era sindaco Vittorio Agostino di cui io facevo parte dell'amministrazione questo depuratore comprensoriale però era doveva essere costruito a Lavagna in un'area industriale artigianale. Il candidato sindaco Caveri su questo tema ha perso le elezioni perlomeno è stato un motivo di campagna elettorale perché i lavagnesi hanno detto chiaramente che in un'area anche se industriale non volevano questo depuratore. Ora magicamente questo depuratore viene sulla spiaggia di Chiavari e a noi non sta bene. Quindi raccoglieremo una raccolta firme per manifestare il dissenso di Chiavaresi su questo progetto. Da oggi che è sabato mattina a lunedì Roberto Levaggi scioglierà le sue riserve per quanto riguarda la propria candidatura. Lei ha notizie più certe rispetto alla candidatura del sindaco uscente? No, io personalmente non ho notizie più certe ma sono sempre stato convinto personalmente che sia lui il candidato sindaco dell'amministrazione uscente. Cosa pensa quindi? Ho letto i giornali oggi dove il presidente della regione Totti dice che probabilmente vincerà il primo turno. Io francamente vivendo la realtà di Chiavari non sono convinto di ciò. C'è una spaccatura nella Lega? Sembrerebbe, parliamo al condizionale, ma sembrerebbe una spaccatura seria rispetto all'appoggio su Roberto Levaggi. Sì, io personalmente, che non sono iscritto a nessun partito, condivido la scelta che ha fatto la Lega Nord di Chiavari di non andare al noto ristorante sulla passeggiata perché mi è sembrata francamente una spartizione di poltrone, se così si possono chiamare, della città di Chiavari a Tavolino. Non mi è sembrato un gran esempio, soprattutto deciso da Genova. Crede che questa situazione rafforzi la sua posizione? Noi sentiamo tanto entusiasmo tra la gente, non abbiamo poteri forti, non abbiamo grandi finanziatori, però abbiamo tanto entusiasmo della gente, di quel popolo, di quella persona che non fanno parte di associazioni o quant'altro, che era poi sostanzialmente l'elettorato di Vittorio Agostino. Noi abbiamo l'ambizione di dare un'alternativa moderata a Chiavari, ai delusi dall'amministrazione Levaggi e da chi non aveva votato Vittorio Agostino. Quindi ritenete di poter raccogliere tutti i consensi che furono di Vittorio Agostino? Ci proviamo, Vittorio Agostino sarà anche qui stamattina a sostegno della mia candidatura, mi ha garantito il suo appoggio come è venuto alla cena di presentazione e quindi insomma è un bello sponsor, maggiore di tanti partiti. Si faccia un augurio? L'augurio è di arrivare al balottaggio e di vincere le elezioni. Vittorio Agostino, ex sindaco di Chiavari, oggi qui per appoggiare la candidatura di Di Capua. Beh, per appoggiare, per salutarlo e augurargli ogni bene. Come vede questa campagna dall'alto della sua esperienza? Beh, dal basso diciamo. La vedo tranquilla, deve ancora iniziare il bello, le cartucce salve non servono. Come vede Chiavari oggi? Volei trattenermi da giudicare. Il Consiglio Comunale di Rappallo si riunisce domani mattina alle 9.30 per votare il bilancio di previsione 2017-2019. All'ordine del giorno anche due emozioni sull'apertura di un supermercato a San Michele di Pagana e un'altra che riguarda l'intervento della messa in sicurezza della copertura del Torente San Francesco. Accordo quadro tra Regione Liguria e la Rete Ferroviaria Italiana per il miglioramento dei servizi. Vediamo di che cosa si tratta. La firma dell'accordo quadro tra Regione Liguria e Rete Ferroviaria Italiana rappresenta un importante passo in avanti sulla strada di un sempre maggiore efficientamento del servizio ferroviario su tutto il territorio. L'accordo consentirà una più efficace programmazione nell'utilizzo delle capacità infrastrutturali e quindi nell'elaborazione di orari che rispondono al meglio delle richieste del territorio. Lo ha dichiarato l'assessore regionale Trasporti Gianni Berrino commentando l'accordo quadro sottoscritto dal Governatore della Regione Liguria Giovanni Totti e dall'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile nell'ambito dell'inaugurazione della nuova sala di controllo della circolazione Ligure a Genova Teglia. L'investimento sulle dotazioni tecnologiche, prosegue ancora l'assessore Berrino, da parte di RFFI, garantisce sempre maggiori standard di sicurezza e di efficienza nel servizio ferroviario. Tra i contenuti dell'accordo anche la previsione della stipula di uno specifico protocollo d'intesa per la definizione di possibili ulteriori investimenti sul sistema ferroviario Ligure sia nelle infrastrutture sia nei servizi come nel miglioramento tecnologico e delle qualità dei luoghi di interscambio, dei sistemi di comunicazione e informazione dell'utenza e dell'accessibilità alle stazioni anche per utenti con disabilità. Gli impegni che RFI si assume, aggiunge l'assessore Berrino, si sommano già ai consistenti investimenti avviati sul territorio. Grazie all'accordo quadro sarà infine possibile ottimizzare il servizio ferroviario regionale tenendo conto degli scenari futuri in base allo stato di avanzamento dell'importante intervento in atto come rifacimento del nodo ferroviario di Genova, il terzo valico, il raddoppio del ponente e il rinnovamento della stazione di Ventimiglia. Termina qui la prima parte di TGT Guglio, vi lascio adesso a una piccola pausa pubblicitaria. Riprendiamo la programmazione delle notizie dei servizi e questa volta ci dedichiamo all'entroterra dove anche l'Istituto Comprensivo di Cicania ha ricordato il giorno della memoria. Ci racconta tutto il servizio di Massimo Ragomarsino. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo di Cicania in occasione della giornata della memoria ha predisposto una serie di iniziative che si sono svolte al palazzetto multiuso di Cicania. Certamente questo avviene naturalmente tutti gli anni e assume anche un significato particolare qui in valle in quanto iniziamo a ricordare gli avvenimenti tristi di quegli anni con qualche giorno di anticipo nella piana di Correglia dove un tempo era presente il campo 52, un campo di prigionia e concludiamo nel giorno per così dire canonico della memoria del 27 qua a Cicania con le scuole locali. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i ragazzi possano avere una chiara evidenza e una testimonianza di quello che successe in quegli anni bui perché possano portarsi sempre dietro questo ricordo e quindi in qualche modo cerchiamo di far sì che questo non si ripeta perché una sciagura di queste proporzioni è inimmaginabile proporla come futuro ai nostri ragazzi. Sul mare e sulla terra chi ci salverà? Ci salverà il soldato che non la vorrà Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà La guerra è già scoppiata ma è con Dio un vero La guerra è già scoppiata chi ci aiuterà Ci aiuterà il buon Dio ma è con Dio un vero Ci aiuterà il buon Dio lui ci salverà Un Dio è già scarpato dove non si sa Un Dio è ben andato chissà quando tornerà E adesso vi segnaliamo due appuntamenti Il primo riguarda la Croce Rossa di Lavagna nel suo comitato di Via Alcarmelo dove domani pomeriggio a partire dalle 15 si svolgerà una tombolata dedicata a tutti, aperta a tutti Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di viveri Per le persone bisognose di Lavagna Martedì un appuntamento invece classico culturale della settimana Martedì alle 16.30 a cura dell'associazione culturale O Castello di Chiavari nella sala d'ascolto Livalare di Via Del Pino Una conversazione curata dal professor Marcello Vaglio Dal titolo a caccia delle parole e in cerca dell'angheso misterioso Come ogni fine mese il mercatino dei sapori e delle tradizioni a Chiavari in Via Rivarola Un appuntamento con la gastronomia italiana E con servizio Domani secondo e ultimo giorno in Via Rivarola a Chiavari Dalle 9 alle 20 del mercatino dei sapori e delle tradizioni La rassegna mensile dell'enogastronomia artigianale Ideale e cornice per l'incontro tra storia e cultura e tradizione L'evento fin dal suo nascere ha avuto infatti come scopo Il creare un'occasione di incontro Tra quanti ricercano il buon cibo di qualità E chi fa dell'eccellenza agroalimentare Un criterio importante del proprio lavoro Gli organizzatori del mercatino proseguono attività Alla ricerca di materie prime Lavorazioni artigianali e produzioni d'eccellenza L'evento è organizzato dall'assessorato al turismo del comune di Chiavari In collaborazione con Totem 20 E in sinergia con l'associazione nazionale La Compagnia dei Sapori La Liguria è presente con l'olio extravergine di oliva Le olive taggiasche, il pesto Le creme e le salse tipiche della tradizione L'olio del levante, le paste essicate Trofi e corsetti Funghi secchi, acciughe, formaggi locali e miele Dalla Lombardia Vini dell'oltrepopavese I formaggi della Valcamonica La pasta fresca e tortelli capusei Il Piemonte è presente con miele Pane integrale, cereali Torte di nocciola Formaggi di alpeggio Salumi e vini del Monferrato Infine la Toscana con il pane tradizionale Il salumi, il pecorino E l'olio extravergine di oliva E anche questa sera abbiamo terminato l'edizione di TG Tigullio Vi lascio adesso le previsioni del tempo per domani, domenica 29 e per lunedì 30 L'informazione giornalistica ritorna lunedì alle 12.45 con TG Gente condotto da Marisa Spina e alle 19.30 con l'edizione di TG Tigullio A tutti coloro che ci hanno seguito La più cordiale buonasera Previsioni del tempo per domani, domenica 29 gennaio Continua il flusso umido nei bassi strati atmosferici che mantiene condizioni di nuvolosità variabile Con ampie schiarite alternate ad addensamenti anche consistenti, seppure in assenza di precipitazioni Venti generalmente deboli variabili Mare mosso su tutte le coste per onda da sud, incalo a poco mosso in serata Umidità su valori medio-alti Temperature sulla costa minima 10, massima 16 Nell'entroterra minima 2, massima 13 Previsioni per lunedì 30 gennaio Ciero nuvoloso con tempo ranneschiarite Venti deboli, mare poco mosso Umidità su valori medi Temperature sulla costa minima 8, massima 14 Nell'entroterra minima 2, massima 12 Nell'entroterra minima 3, massima 15